Musica Ancora un incidente stradale mortale a Palermo, il sesto in un mese a perdere la vita poco prima dell'alba in via Pietro Bonanno, un 38enne molto noto in città, Alessandro Nasta, organizzatore di serate ed eventi, i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo prima di estrarlo dalle lamiere della sua auto. Timbravano la presenza ma poi c'era chi andava a casa, chi a caccia, chi a fare una passeggiata, quattro dipendenti del comune di Pachino saranno adesso processati per assenteismo. La vicenda di Giuseppe Costanza, l'autista di Giovanni Falcone, che si salvò perché il magistrato volle guidare la croma bianca quel 23 maggio del 92, Costanza chiede di uscire dall'oblio che lo ha avvolto lunedì, sarà la manifestazione organizzata dalla Fondazione Falcone. Proseguono le indagini che in emessi scorsi hanno portato la polizia di Palermo a far scattare l'operazione Free Money, l'organizzazione usava i PIN delle carte di credito clonate per sottrarre ingenti somme di denaro. Il difensore del Palermo Andrea Rispoli si racconta al Tgmed Sport ripercorrendo le tappe del percorso che ha portato il Rosanero alla salvezza, in Serie B, gara cruciale per i Trapani sul campo del Bari. Questa sera alle 21.10 torna a contropiede su TRM. Buongiorno, benvenuti al Tgmed. Sono questi i titoli principali. Come avete visto cominceremo a parlare anche noi oggi di un giorno dedicato al ricordo e soprattutto all'impegno. Questo è più importante forse del ricordo fino a se stesso. Il 23 maggio lo faremo con Giuseppe Costanza. Era quel pomeriggio in autostrada Capaci l'autista, l'autista giudiziario di Giovanni Falcone. Si salvò perché Falcone volle guidare personalmente la croma bianca. Parleremo, lo avete visto in apertura anche, dell'incidente mortale che si è verificato questa mattina prima dell'alba a Palermo a perdere la vita. Un 38enne molto noto in città, un organizzatore di serate, di eventi e il sesto incidente mortale nel giro di quasi un mese tra Palermo e provincia. E anche questo è un dato che deve fare riflettere. Ci ritroviamo come sempre tra un attimo, subito dopo la pubblicità. Ciac 13, serata d'autore. Grandi registi, grandi interpreti e grandi emozioni. Una rassegna dedicata al cinema d'autore che TRM mi propone ogni lunedì. La tua pubblicità su TRM 13. Med 1, Med 2, Radio Med. E allora, incidente mortale nella notte a Palermo in via Pietro Bonanno alle falde di Monte Pellegrino. A perdere la vita un noto organizzatore di eventi, Alessandro Nasta, 38 anni. Si tratta del sesto incidente mortale avvenuto nell'arco di pochi giorni. Marianna Grillo. L'auto, una Opel Adam, si è ribaltata più volte lungo la strada che sale a Monte Pellegrino dal versante Fiera del Mediterraneo a Palermo, finendo la sua corsa sottosopra. Nell'incidente avvenuto attorno alle 4 del mattino ha perso la vita Alessandro Nasta, noto PR e organizzatore di eventi. Nasta, 38 anni, è morto sul colpo. Nel violento impatto, l'auto si è schiantata su un'auto posteggiata, cartocciandosi senza lasciare scampo al giovane che è morto sul colpo. A chiamare ai soccorsi alcuni residenti, allarmati dal rumore causato dal violentissimo impatto. Il personale del 118, una volta arrivata in via Bonanno, ha potuto soltanto constatare il decesso dell'uomo. Per estrarre il corpo, incastrato dalle lamiere, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto, anche i vigili urbani, che hanno impiegato diverse ore per risalire all'identità della vittima, che con sé non aveva documenti e viaggiava a bordo di un'auto, incomodato dulso da una concessionaria. Il riconoscimento, dunque, è avvenuto solo qualche ora più tardi dai familiari accorsi alla camera mortuare dello spedele civico. Sulle cause del tragico schianto sono ancora in corso le indagini. Secondo alcune indiscrezioni, sembrerebbe però che il giovane PR abbia perso il controllo della vettura per un colpo di sonno, mentre ritornava a casa in via Sadat, che si trova poco distante dal luogo dell'impatto. Quello avvenuto nella notte scorsa in via Bonanno, però, è soltanto l'ultimo incidente mortale avvenuto nelle strade palermitane, un dato che preoccupa e accende di nuovo l'attenzione sul tema della sicurezza, della prevenzione e dei controlli, che non sempre, purtroppo, sono sufficienti. Lasciamo la città di Palermo, ci spostiamo a Pachino e parliamo ancora una volta dei furbetti del cartellino. Quattro dipendenti del Comune adesso saranno processati per assenteismo. Timbravano il cartellino, quindi segnavano la loro presenza al lavoro, poi facevano tutt'altro. Il Comune questa mattina ha anche annunciato che si costituirà parte civile. Luca Salerno. Chi andava a caccia, chi tornava a casa, chi decideva di fare una passeggiata. Ma c'è un appuntamento dal quale il dirigente e tre dipendenti del Comune di Pachino non potranno assentarsi, ed è quello davanti ai giudici. La Guardia di Finanza ha infatti notificato il rinvio a giudizio ai quattro dipendenti dell'Ufficio Agricoltura e Commercio. Nel gennaio scorso erano stati denunciati in sette per assenteismo su un totale di 12 persone in servizio nell'ufficio. Per gli altri tre indagati, l'EGIP sta valutando la richiesta di archiviazione. Per mesi le telecamere della Guardia di Finanza avevano seguito gli spostamenti dei dipendenti comunali, oltre 430 le ore di riprese che adesso finiranno agli atti del processo. Quello che le telecamere avevano documentato era il più classico caso di assenteismo, si timbrava e poi si andava a fare altro. Tre dipendenti, uno di loro aveva accumulato sino a 60 ore di assenze ingiustificate, ovvero l'82% dell'orario di lavoro. L'accusa nei confronti degli indagati è truffa aggravata in concorso ai danni dell'ente pubblico. Il Comune di Pachino fa sapere che già dopo le denunce del gennaio scorso erano state avviate le sanzioni disciplinari. I dipendenti sono stati sospesi dall'attività, alcuni per pochi giorni, altri per mesi. L'amministrazione fa sapere comunque di voler costituirsi parte civile al processo. Intanto il caso è stato segnalato dalla Guardia di Finanza alla Procura della Corte dei Conti per accertare eventuali irresponsabilità per danno erariale. La sentenza di appello con la quale ieri il generale dei Carabinieri Mario Mori e il colonnello Mauro Obinu sono stati assolti per la mancata cattura di Bernardo Provenzano nel 1995 conferma per i legali di Mori non solo il monumentale documento assolutorio di primo grado ma esclude qualsiasi ulteriore ipotesi accusatoria avanzata in maniera traballante così è stata definita dalla Procura Generale. E ieri dopo la lettura della sentenza il Procuratore Generale Scarpinato lo avete visto nelle immagini, che aveva chiesto la condanna di Mori e di Obinu ha lasciato l'aula senza rilasciare dichiarazioni. L'ipotesi accusatoria, dicono ancora i legali, si è infranta contro il lavoro della difesa che ha ribattuto punto su punto la requisitoria della Procura Generale. Stringata oggi la dichiarazione di Mario Mori la sentenza mi restituisce l'onore di uomo e di servitore dello Stato. Intanto aveva dato un 4-meno come voto ai giudici del processo Mori. Oggi per quella dichiarazione che lui stesso ha definito improvvida il PM di Palermo Vittorio Teresi è stato assolto dalla seconda sezione disciplinare del CSM per scarsa rilevanza del fatto. La sezione ha accolto la richiesta della Procura Generale della Cassazione. Teresi aveva espresso quel giudizio critico rispondendo alla domanda di una giornalista dopo il deposito delle motivazioni della sentenza di assoluzione di primo grado nel processo al colonnello Mori. Chi ha scritto quella sentenza è andato fuori tema, aveva detto il PM. Dedicare le prime 800 pagine ad un tema che è stato trattato dall'accusa solo come ipotesi di movente e occuparsi solo in minima parte del tema principale del processo cioè la mancata cattura di Provenzano, aveva detto Teresi, è un modo curioso di scrivere le decisioni. A 24 anni di distanza dalla strage di Capaci, uno dei testimoni di quei momenti drammatici sembra uscire dall'oblio. Giuseppe Costanza, l'autista di Giovanni Falcone che si salvò solo perché il magistrato scelse di guidare personalmente la croma bianca verso Palermo, in tutti questi anni sembra essere stato dimenticato. Da noi, ascoltato nel corso di TRM Mattino, ha confermato che quest'anno prenderà parte alle celebrazioni il ricordo delle vittime della strage, però ha parlato anche di altro. Ascoltiamo. Come se io ero un passeggero in quella macchina e invece che avere vissuto otto anni a rischio la mia vita perché ogni giorno che si usciva poteva essere l'ultimo. Non sono l'unico sopravvissuto, come si sente, si è detto. C'è un'altra macchina dietro di me con un componente di tre persone, che uno è Corvo, uno è Cervello e l'altro è Capuzza. Mi dispiace che poi si diffonda la voce che io sono l'unico sopravvissuto. No, io sono l'unico che era nella macchina del dottor Falcone. Però mi fanno pensare questo, perché se uno muore viene ricordato, se uno ha la disgrazia di rimanere in vita viene dimenticato. Questo è lo Stato italiano. Però oggi devo dire che c'è stato un segnale di presenza, forse perché ho dato delle dichiarazioni forti. Pertanto io ritengo che l'eliminazione di Giovanni Falcone non sia dovuta, così come si è detto, alla vendetta della mafia, che sicuramente c'è l'approvazione, ma chissà da dove è venuto l'ordine e da chi. Questo ancora io non lo aspetto, perché sono passati 24 anni. Bene, ha fatto Costanza ricordare gli altri tre agenti di scorta nell'auto che seguiva il corteo di Falcone. Rivedendo queste immagini girate dal nostro Enzo Traina, pochi minuti dopo l'agguato, viene da pensare che questi 24 anni sembrano veramente l'altro ieri. E noi ne parleremo naturalmente nei prossimi giorni, visto che cercheremo di coniugare ricordo e impegno, soprattutto impegno. Torniamo alla cronaca, i giudici della prima sezione penale di Agrigento hanno condannato per mafia ad un anno di isolamento carcerario il boss Gerlandino Messina di Porto Empellocle. Dal 25 giugno del 2010, quando venne arrestato a Marsia il boss Giuseppe Falzone, al 23 ottobre successivo, quando venne catturato a Favara, Gerlandino Messina fu capo di Cosa Nostra Agrigentina. A lui, che deve già scontare un ergastolo definitivo per associazioni mafiose ad omicidio, i giudici hanno applicato l'istituto della cosiddetta continuazione. La condanna prevede dunque in aggiunta un anno di isolamento. Il PM della direzione distrettuale antimafia di Palermo, Rita Fulantelli, aveva chiesto altri 22 anni di reclusione. A Palermo la polizia ha arrestato tre uomini, due italiani e un romeno, ricercati da settembre scorso, quando scattò l'operazione Free Money, la maxifrode realizzata attraverso l'utilizzo di carte di credito clonate che portò in carcere una ventina di persone. Vediamo. Gli investigatori della squadra mobile della Polizia Postale hanno eseguito questi nuovi tre arresti per associazione a delinquere finalizzata alla riscettazione, al riciclaggio e all'illecito utilizzo di codici di carte di credito clonate. La base operativa del gruppo era a Palermo, ma con ramificazioni anche in ambito nazionale e con profili internazionali. Il gruppo era specializzato nel frodare ingenti somme di denaro attraverso l'uso di codici di carte di credito che venivano clonate. La banda, sgominata, aveva ramificazioni in Russia, Ucraina e Romania. L'operazione, denominata Free Money, era scattata in seguito alla denuncia presentata la squadra mobile dal direttore di un istituto di credito cittadino relativa ad un tentativo di frode con carte di credito clonate avvenuto attraverso l'utilizzo di un POS appartenente ad una ditta di autonoleggio con sede a Palermo. Il giro d'affari accertato dagli investigatori ammonta circa 3 milioni di euro. Le indagini si sono avvalse di intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche riscontrate tra l'altro da servizi di pedinamento, osservazione sul territorio e anche da numerosi accertamenti bancari. In carcere è finito Sorin e Boltasiù, 45 anni, residente a Roma, mentre sono stati sottoposti alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, Carmine Ametrano, 28 anni, e Giancarlo Gregoli, di 35. Restiamo all'interno della cronaca perché a Palermo si indaga sul furto di una pistola dall'abitazione di un ispettore della Polizia Municipale. I ladri sono entrati in casa e hanno rubato la pistola di ordinanza, una beretta calibro 9 custodita in un mobile insieme a 15 proiettili, mentre l'uomo dormiva insieme alla moglie. Nessuno si sarebbe accorto di nulla. La Polizia non ha trovato segni di effrazione alla porta d'ingresso e alle finestre dell'appartamento al secondo piano di uno stabile. Sciopero nazionale del personale scolastico. Anche in Sicilia, amministrativi, dirigenti scolastici e anche insegnanti sono scesi in piazza per chiedere modifiche alla legge 107 e per sollecitare il rinnovo dei contratti di lavoro. Sentiamo. A manifestare in Piazza Verdi davanti al Teatro Massimo c'erano anche alcuni bambini che insieme agli insegnanti, al personale amministrativo e alcuni dirigenti hanno fatto parte dello sciopero nazionale della scuola. Al centro della manifestazione è il rinnovo del contratto scaduto da sette anni e un insieme di correttivi della buona scuola. Una riforma ancora molto contestata e che non risolverebbe, secondo chi protesta, la piaga del precariato che da anni riguarda il mondo scolastico. CGL e Cisle Will hanno organizzato in diverse piazze italiane e siciliane cortee e sitine davanti alle prefetture per chiedere al Governo nazionale e regionale interventi sui salari e sull'edilizia scolastica. Allora noi contestiamo la verticisticità di questo modello che stabilisce autoritarismo, mancanza di democrazia e mancanza di libertà di insegnamento. Oltre la grandissima riduzione salariale è il riscatto della dignità di chi garantisce ogni giorno ai bambini di tutta Italia e ai bambini siciliani la possibilità di frequentare una scuola democratica e gratuita. Questa legge di riforma calata dall'alto che sta dando difficoltà anche nella semplice applicazione della legge questo noi lo contestiamo e ribadiamo necessariamente che ci sia un'interlocuzione forte con questo Governo nazionale e con tutti i governi regionali e locali perché il sistema a scuola è fatto di tutti gli enti di tutte le istituzioni che fanno di questo sistema un sistema che garantisce certamente la partecipazione e chiaramente l'ingresso di tutti i bambini a scuola è un sistema che regga. Torniamo alla crona che andiamo in provincia di Ragusa una villetta estiva di vita a casa di appuntamenti è stata scoperta dalla polizia a Marina di Marza a Pozzallo all'interno della villetta è stata trovata una donna colombiana con regolare permesso di soggiorno e due uomini della provincia di Siracusa uno degli agenti in servizio presso la squadra mobile aveva ricevuto notizia che in questa villetta solitamente abitata soltanto in estate da qualche settimana vi era un via vai sospetto di persone il proprietario della villetta ha dichiarato di essere all'oscuro dell'attività di prostituzione che la casa era stata regolarmente affittata il comune di Palermo interviene sulle polemiche seguite alla realizzazione nella piazza di Mondello dei lavori di asfaltatura con bitume di colore nero una scelta nei giorni scorsi contestata dai residenti e dai commercianti della zona adesso l'assessore comunale Giuseppe Gini corre ai ripari e ha dichiarato di aver preso contatti con la sovrintendenza scegliendo alcune resine speciali che variano la colorazione in base ai diversi periodi dell'anno le resine sostituiranno il bitume nero un intervento che a detta dell'assessore si aggirerà intorno ai 10.000 euro in ogni caso stanno proseguendo i lavori di pulizia e sistemazione della piazza e delle vie di accesso un po' in ritardo dicono i commercianti in ogni caso in tempo per la stagione estiva gli agenti della squadra mobile di Enna hanno arrestato un imprenditore agricolo con l'accusa di coltivazione, produzione, detenzione ai fini di spaccio di marijuana la polizia ha sequestrato un vero e proprio impianto di produzione all'interno di un complesso di serre dell'ampiezza di circa 400 metri quadrati c'erano 180 piante sono stati anche trovati 122 kg di marijuana già avviata alla trasformazione torniamo adesso a Palermo perché da domani al 5 giugno sarà nuovamente aperta la Fiera del Mediterraneo la campionaria perché non tutti i padiglioni saranno aperti come in passato in ogni caso è un ritorno significativo anche per quest'anno l'ingresso al pubblico sarà gratuito dalle 16 alle 19 tranne che nei fine settimana Gualtiro San Filippo tutto pronto per la nuova stagione della Fiera Campionaria del Mediterraneo si parte il 21 maggio e le porte verranno chiuse solamente il 5 giugno in questo lasso di tempo ci saranno esposizioni giostre, stand, degustazioni e concerti l'ingresso al pubblico sarà gratuito dalle 16 alle 19 ad eccezione di sabato e domenica fuori orario si pagherà un ticket dal prezzo simbolico di 2,50 euro una fiera campionaria nuova che esercisce questa città è la Sicilia della fine della Fiera del Mediterraneo quest'area adesso è sempre più viva sempre più punto di riferimento alle attività economiche e anche culturali e artistiche della città e torna la fiera campionaria passo dopo passo Palermo esce dal tunnel ed si internazionalizza anche grazie a questa fiera abbiamo comunque svolto numerose iniziative e abbiamo riportato pian piano almeno diciamo più della metà della fiera quasi due terzi alla possibilità di essere utilizzata di restituire ai palermitani un polo fieristico che naturalmente è solo rigenerato molte novità perché quest'anno abbiamo aperto molte parti della fiera che erano state vandalizzate in precedenza erano completamente deturpati abbiamo aggiustato un po' tutto abbiamo riaperto il bar Mazzara che era una cosa importante della fiera tutte le dettorie in zona agricoltura ecco questa zona agricoltura e poi tante altre cose e lasciamo insomma un po' di alone di una penombra per vederlo poi in fiera parliamo di un appuntamento significativo per il quale c'è molta attesa a Palermo 24 ore dedicate alla musica dei Beatles in una maratona che ripercorrerà la storia dei Fab Four 24 ore durante le quali tutti potranno esibirsi per dare vita ad un happening che partirà domani alle 13.30 per concludersi il giorno dopo la stessa ora l'iniziativa del Teatro Massimo di Palermo e si terrà nel foyer del teatro sarà costituita da una serie di slot da 15 minuti ciascuno delle sessioni di 15 minuti ciascuna durante le quali potranno esibirsi solisti, cori e formazioni strumentali di qualsiasi tipo il Teatro Massimo metterà a disposizione degli artisti un amplificatore per basso un amplificatore per chitarra un pianoforte elettrico un pianoforte classico un set completo di batteria due microfoni per voce la maratona culminerà domenica 22 maggio alle 11.30 all'interno dell'evento All You Need Is Love l'economia spiegata con le canzoni dei Beatles con il giornalista Federico Rampini si parte quindi domani alle 13.30 all'interno del foyer del Teatro Massimo vedremo naturalmente come andrà facciamo subito un'altra brevissima pausa poi come sempre il TG Med Sport Andrea Rispoli è uno dei protagonisti dell'ultima ora di questa salvezza dobbiamo ancora metabolizzare un po' questa grandissima impresa che abbiamo fatto siamo molto contenti per aver fatto comunque una salvezza difficile dove abbiamo avuto tante difficoltà ma siamo molto contenti perché questa piazza merita di poter stare in questi palcoscenici così importanti che è la Serie A la zinfoseria, il pubblico tutte le persone componenti del Palermo sono persone che comunque meritano di stare in queste categorie il mister ha più volte ripetuto in fondo ci abbiamo creduto dal primo momento da quando siamo ritornati abbiamo rimesso piede nello spogliatoio noi ci abbiamo sempre creduto ma purtroppo dopo tanti cambiamenti perdi un po' gli equilibri perdi un pochettino quelle sicurezze che hai quando fai un certo tipo di percorso poi ci siamo affidati a gente come Enzo, Maresca come Sorrentino, Gila che nello spogliatoio hanno sempre dato una certa stabilità hanno sempre cercato anche quando le cose andavano male di sopperire alle difficoltà e cercare di essere sempre fiduciosi e infatti ci hanno dato una grossa mano come del resto tutta la squadra ha sempre cercato di dare il massimo Sono state un paio le partite in cui avete probabilmente capito che l'impresa si poteva fare però quanto è stata dura dopo la gara contro l'Atalanta? Sicuramente c'era tanto rammarico perché è una partita da amo vincere purtroppo per tante situazioni siamo stati poco concreti siamo stati poco attenti su alcune situazioni non siamo riusciti a vincerla ma c'era tanto rammarico ma poi avevamo ancora speranza di poter affrontare le partite e cercare di recuperare i punti persi che avevamo lasciato in passato avendo comunque fatto un periodo dove da tanti mesi non vincevamo a livello personale essere messo un po' da parte per tanto tempo e poi riscoprirsi tra i protagonisti forse è stata la chiave giusta per il rendimento che poi ha avuto Rispoli io sono stato fuori un bel po' di mesi ho sempre cercato di dare un contributo perché io faccio parte di una società dove dobbiamo cercare di dare il massimo di poter salvare comunque quello che è il nostro patrimonio societario e io ho sempre cercato di dare un contributo anche se non giocavo perché sapevo che c'è spazio per tutti c'è tempo per tutti per potersi mettere in mostra e se non dimostri in allenamento non cerchi di avere una certa condizione fisica poi basta poco che la perdi e quando vieni chiamato in causa dopo non puoi comunque fare la differenza Futuro di Rispoli? Io ho tre anni di contratto ancora col Palermo spero di poter rimanere qua e che Zamparini mi possa riconfermare Terzo atto dei quarti di finale dei playoff di Serie 2 di basket per Agrigento la squadra di Ciani attualmente sotto 0-2 nella Serie con la Fortitudo Bologna deve necessariamente vincere per continuare a inseguire la proda alle semifinali impresa ardua per il Gigante dopo le due sconfitte interne rimediate al Palamoncada due gare che potevano avere esito diverso tuttavia non avrebbe senso pensare a qualche stato e obbligatorio concentrarsi sul presente al Paladozza serve uno scatto d'orgoglio per dare continuità al confronto con gli Emiliani in questo momento favoriti dal doppio vantaggio ma nulla è definitivamente compromesso a patto di cambiare passo provando a rimandare tutto all'eventuale Bella che la Fortitudo giocherebbe in casa ne è convinto anche il coach Ciani che nell'immediata vigilia prova a caricare i suoi se ci faremo appesantire dalla pressione di dover vincere tre gare consecutive rimarremo schiacciati giocheremo pensando solo al fatto che c'è una partita da vincere inutile pensare ad altro che c'è una partita da vincere che c'è una partita da vincere che c'è una partita di che c'è una partita di